E poi quando ti fai grande vai a fare l'ingegnero, eh? Ti gustaria? Los tre, los tre o la dottora? Qualchie? Tu chieres la dottora o l'ingegnero? L'ingegnero? Dottora, ah. Usted che va a fare l'ingegnero quando vai? Eh? Bombeiro. Bombeiro? Bombeiro. No? In casa? Estava trabalhando con tu papà? Ah, sì, mi amor. Parla? Comexare l'altro anno e studiare. Ah, ajá. Próximo anno studiare. Estudiare il prossimo anno. E ora aiuta il papà? Molto bene. E tu, hermanito? Mi te lo llevo ora a casa. E com'è? Poi le dividete. Le mangiate tutti e tre. Che lo comparta, che lo comparta. Sì, poi le diamo pure quelli che ho... Se lo io... Se lo io... Il sube non lo strena il caballo, questo cavallo? Veramente. E trasporta i regi quando sta il tempo malo. Perché gli occhi non puoi andare. E io diverso. Vai, aprile il cavallo. Abba con un hueco. I nostri figli in Italia dovrebbero vedere queste cose per capire. Ciao. 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 Oh, quando torniamo in Italia... È. Grazie a tutti